Dov'è Dino? Fidiamo che non prende l'altro capazzone Non so, c'è da chiedere a... Fidiamo che non prende l'altro capazzone Fidiamo che non prende l'altro capazzone c'era di là quello lì solo che la stava lavorando non lo so ha detto una latta non lo so via finito eh madonna via 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 dove era Andrea è lì sta arrivando Claudio Marco lo so sentiva che lo chiamavano sta arrivando con i piedi un macello quasi è scoppiato tutto il corpo a pannone è tutto è tutto bruciato c'è il fuoco dentro non so cosa succede